Ciao ragazzi, io sono CVN e oggi siamo tornati su Mario Kart 8 dopo anni, con cui presenta Pietro e Jonathan. Un po' di tempo farò, ho acquistato le piste del DLC, quindi ora possiamo fare percorsi nuovi. Facciamo il trofeo uovo, che inizia con una pista che mi sta sul cazzo. Ma è bellissimo. C'è quello di Yoshi. È storica questa. Allora, iniziamo. Io non ricordo un cazzo. Non sto andando troppo bene per essere sta pista. Stai l'accaso? Io mi dimentico, sembra che sta pista è a forma di Yoshi. Sta pista mette una frega alla prova perché c'è solo curve. Eh, è quello che stavo a dire. Ve lo faccio cacà a fare le curve. Per poco non mi sta assurando un cazzo. No, non mi posso credere. Sempre. Oh, ho recuperato. Ho recuperato un botto, da decimo a quasi terzo. Bravo, sei qua. Ero secondo, ero terzo. A caso, a caso, a casissimo. Aiuto. Sì, ma dal terzo gli piglia tipo il razzo. Arrivava a primo Yoshi. Magari. Sto perdendo di merda. Ti immagini, ma un guscio blu all'ultimo centimetro a me. Quando ci scommetti. Toh, se bava. No! Eh, vabbò. Dai, quinto. Stavo terzo. L'ho terzo un certo punto. Eh, beh, è colpa mia se va. Va a fare un buco. Pure l'ultimo ho superato. Male, male, male. Malissimo. Alla fine, però, sei andato... Malissimo! Ciao, alza la luminosità. Alla alza. Immagino che qua ci sarà un taglio del signor Gobeo. Sì. Quindi, visto che se basta taglierà, puttane di merda, chi guarda sto video? Oh, mochi! Qua non c'ho mai dei ricordi perché ogni volta qualcuno mi rompele scatole. Facciamo una 100cc per dire, ma che ne sanno i due video. Cazzo. No, che cazzo sto facendo? Stavo guardando Mario Tattoo, infatti stavo dicendo perché sto andando così bene? No, ma perché sono... Ma perché? Perché sono... Ma vedi che fai queste cazzate? Cazzo, vaffanculo, mi sono... Ho preso la banana che avevo lanciato. Oh, se un po' la recupera? No. Un po'. Un po'. Eh, è giusto un po'. Perché basta. Se un po' facciare ancora un milancio. No. Perché mi ricordo tipo di un video di Mario Kart 8 che facessi... E se non mi seguite su Musical.ly, andate su Musical.ly. No, quello è il vlog di Capodancio. Ah, è vero, è vero, è vero che state in camera di Jonathan. Seguitemi su Musical.ly se avete Musical.ly. E se non avete Musical.ly, installatevi Musical.ly. Che Luca ti sputo le cose di pasta e te la mangiassi. Minchia quanto mi so molto a quella scena. Quando? È di Luca. Non quella di Luca. È la di Luca. Però era bello veramente. È uscito il video bellissimo. Gulo, che ricordi? Che ricordi quando ero grasso io? Non ti ricordi tutte le cose belle? Ti ricordi solo che eri grasso. No, io mi ricordo anche le cose. Mi ricordo la panza. Attenzione, Sebastian Gopel si rifà. Cioè, quindi, uno sempre ciccione e un po' veicolo. Eh sì. Sì, secondo. Wow. E tu terzo. Io ricordo delle patatine che ti sei mangiato a Bagaria quella sera. Leo, Leo, Leo. No, no, sei mettito serio. YAHUZI parte, porco d***o. 130, Martin Garrix, animals. Non mi piace la motoretta, su. Manco a me. Questa mi piace un botta a me. Verso l'infinito. Ma ti mangi che se non riesce a ripiare la spada e gli cade in faccia e muore. Cade e muore. Non mi l'ho colpita di... Che cazzo? Colpire. Mancina di Mario Kart fatto tipo Pokémon Mario Merde. Tutte le parolacce tipo che muoio, sangue. E invece ogni volta che ti compisci l'avversario ti compare sotto la schermata pezzo di merda. Quanto è una zoccula. Ah, questa è bella. Oppure tipo, è presente che... Sì, questa è bellissima. È presente che quando superi l'avversario si guardano. Che fa pure così. Oh, siamo partiti tutte e tre insieme. Se va, ma resta così. Oh, cavolo. Mi sono cagato sotto perché l'ho visto arrivare... Una bomba mi ha preso solo la banana. Mi ha preso solo la cottura banana. Ma io mi sono cagato in mano perché l'ho visto arrivare sopra la coccia. Tu ho detto, oh, cazzo. Oh, se va. Ma finisci a ingularmi. Bella questa. Che stai a fa? No, perché? Da te sotto i gusci osti. Ma quanto cazzo so culoso? Eh, no! Sì. Senta, sto giro. Una settima so culoso. Oh, Gianlu, dai cazzo. Bella, se va! Ciao! Ma dove cazzo vai? No, mi hai schiacciato. Oh, sei primo, se va. Vai, vai. Ma dove? Dove? È primo, vai. Ah, no. No. Non vedo nulla. Non vedo nulla. Non vedo... Madonna, togliti. Oh. Oh. Cazzo. No! No! Sì, 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 sì. Sì, sì! Ma cazzo! No! Ma cazzo pure! Ma non me lo svanculo! Porco di cusci in blu, mannaccia! No, vabbè ti avevo messi salenti. Mannaccia il cuscio in blu, mannaccia. Io ti per questo l'odio bestemmo, mannaccia. Sto cuscio gli è passato... Gli è passato accanto, guarda. Gli è passato accanto. Proprio l'ha preso. Cucì, vaga, la mutant. Che cazzo è? Guarda come ce la stiamo contentendo. Ti si... Boom! Perché ti si è appiattito tu? Parara! Eh lei, eh lei! Porco di... Un orgasmo! Un cazzo di orgasmo! Mannaccia purebbe mi Mario! Guarda! Guarda... Mi fa rompi i coglioni a piedi. E quello è il tuo intento in ogni video. Sì! Porco di due... Cazzo... Eh perché devo andare a sbattere? Vaffanculo. Perché sto andando così bene? No! No! Porco... No! Perché? Come ho detto... Stavo andando troppo bene. Perché che ha lanciato una bomba? Eh dai, porco di... Ma chi doveva colpire? Ovviamente... Eh dai, mannaccia la... Sono stato io. Eh ma va. Che cosa ho lanciato? Sì, allora, nel momento meno opportuno mi doveva capita questo che mi fa cadere... Oh, primo! Tutta la gara prima sono stato, cazzo. Perché non mi... No qua, allora... Metà del percorso l'ho fatto bene. Da sto punto... Ho fatto schifo. Ho fatto schifo pure io a questo. Mi hanno colpito 300.000 volte. Ma comunque rispetto a prima le gare, cioè a livello di bravura siamo un po' calati tutti quanti. Calati? No. Eppure tu tipo Sestro. Grazie al cazzo mi avete colpito in 300.000. Che guarda, è in quella sorta? Siiii Ma facciamo un altro percorso Supporto Che cazzo sono? Sono le 5 e 21 Ah ok Si vedeva davvero Dai andiamo porco C'è il bosco C'è il bosco C'è pure baby park Io lo amo Ma baby park ci spacchiamo a parte il momento solo che qua non so prendere per un cazzo no questa l'ho saputo prendere ma che cazzo fai link ebbene ebbene porco 2 dove cazzo perchè perchè ogni parte dove vado ci sono i cazzo ma che cazzo oh ciao se va ma hai doppiato ma non sto capendo un cazzo pure io c'ho tre gusci rossi porco 2 vai 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 cazzo vedo gente che mi supera a casa e che poi si va a schiantare ehi ciao stonzo bu dai se va che io l'ultimo giro l'ho finito si secondo giro vai no secondo giro e che cazzo dai se va morazzo razzo razzo vai 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 se 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 no 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 si serve dai poteva andare se perché non chi con questa bocca aperta porca me io ovviamente che sbatto ogni fottuta curva non c'abbiamo da boscone non mi sa non è resa non mi ricorda la terra del formaggio è peggio e farmaggio no è sabbia farmaggio 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 e che cazzo no ma perché devi iniziarmi così da schifo perché e vai lotto bello vai 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 qua qua c'ha lotto c'ha lotto a cazzo cazzo vado so settimo e il massimo che c'ho sono dei cusci verdi del caldo no 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 cazzo cazzo di roi ma che c'è il peper culo veramente questo peperoncino dal culo che cazzo è successo ma perché ogni volta mi colpito a caso sono terso so terso per inserire il peperoncino dal culo nel culo ma porco che cazzo fai no no perché perché è stupido ma sei tu che stai a guidare sei tu lo scemo sì l'otto ed ero secondo ecco come succede a me ma perché devo fare schifo ma è successa una cosa non ci posso credere no vaffanculo va ho perso solo una posizione grande ma porco io vado a sbatto il formaggio e me ne vado fuori pista ma ovvio ma che schifo sta partita fa cagare a cazzo cagare a cazzo guarda ho fulminizzato tutti fulminizzato me ne riesco io mi sono divertito solo perché ero io ogni volta mi rompe per cazzo io stavolta questa partita non ho lanciato madonna perché dai questo è esageratamente una dub che è successo ma guarda io come passo sotto guarda rimetti io sono passato sotto tra jonathan che volava e il cateniaccio guarda ciao bellissimo cazzo e lui poi che cade qui io so di chi è sopuloso con l'otto io oh una volta che mi capita il muro da quando ho preso il dlc ho sempre tattassato in maronia si due mettendo sempre questo due volte almeno bastardo io e pietro arriveremo prima e tu ultimo come fate ad arrivare a primi due eh io stavo per chiedere io ma vabbè non mi procedo no 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 adesso sto a scherzare voglio diere sto a scherza e io non le accetto i tuoi scherzi fanno cacare ma vaffan- ma vaffan- la porto stava io allora mo arrivo c'è no no ti bomba la cosa bella che non è che ha rotto solo il cazzo con la pista ha rotto il cazzo pure nella pista non fare incazzare jonathan che ti ammazza e no calmo ma io sta pista non ho mai non sono mai andato così bene che c'è ma io non sono mai andato così ma il ragazzo è stato no per tutte le volte che ho giocato bene questa pista che cazzo non lo so io ma mandato avanti al vaffanculo su cazzo cazzo no basta questi funghi dai cazzo guscio di rosso perché perché solo funghi vai 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 cazzo fatto per aver solo fai quinto ma ma meglio funghi che il riempio però tu sei settimo è andato bene ciao beali sono arrivato sono mario metallo quando faccio erezioni spacco il tetto di casa se la c'è una macchia che cazzo è vaffanculo e volevi voleri brutto pezzo di buon rovato almeno questa la domanda vedrà dentro boh ma no perchè da marlo che cazzo è vero e tu pensavo fosse l'uomo per favore io ho arrivato qualcuno ha dovuto il cubo ma non ha guardato a casa 8 c'è paura di la città di tutti ma porco stava lanciando la bomba si mette tre coglioni porco 2 o cazzo no non ci posso credere se va mi sono riuscito a colpire con il mio stesso cuscio verde sono una testa di cazzo spesso succede pure a me si 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 no il problema qual'è che mo' è l'altro che mi incula dico tutte cose secondo a culo ma che cazzo ooooh no allo che succede ho vinto due dolici che cazzo è quando ti ho colpito a te ciao no ma hai colpito quella volta poi mi hai rovinato tutta la gara ma guarda bello qua e perchè tu mi hai rovinato al fine della gara minchia qua mi stavo a caga sotto che mi stavi per colpire nooo ma perchè non ci sono riuscito che cazzo sta a fare oggi con me ma io mando i bacini che cazzo sta mua mua riferò fuori in merda ecco perchè secondo a culo ma perchè perchè se sto c'è kk slide l'usagio sei un pezzo di merda ragazzi io finisco qui se vi è piaciuto mettete un mi piace commentate e condividete iscrivetevi al canale se vi si crea e noi ci rivediamo al prossimo video ciao porco ciao ciao